lo strumento spugna si rivela molto utile tutte le volte che dobbiamo lavorare in maniera veloce e selettiva su alcune aree dell'immagine gestendone la saturazione o la desaturazione la prima cosa che dobbiamo fare è fare un bel ctrl j o command j per duplicare la nostra immagine poi con lo strumento spugna scegliamo per esempio la voce togli saturazione lasciando il flusso a 50% e selezionando la casellina vividezza quello che succede è che trasformiamo alcuni dettagli della nostra modella togliendone letteralmente la saturazione abbassando questo valore e portandola gradualmente addirittura come se fosse una porzione di foto in bianco e nero ma questa è un'opportunità naturalmente perché noi potremmo tranquillamente trasformare alcuni invece dettagli dell'immagine aumentandone la saturazione ecco che cosa succede se scegliamo il metodo satura lasciando però sempre selezionata la voce vividezza quindi aumentiamo la vivacità del colore di alcune zone dell'immagine dandogli magari più appunto vivacità senza perdere magari della naturale progressione di quelle che sono le tonalità che abbiamo all'interno di questa immagine se invece togliessimo, deselezionassimo la voce vividezza il rischio sarebbe quello di aumentare in maniera molto potente, molto forte la saturazione ma naturalmente questa è una scelta ed è una possibilità a voi naturalmente la discrezionalità di agire sulle porzioni dell'immagine per ottenere il migliore effetto che desiderate